Probabilmente, e lo dico in modo abbastanza insicuro, potrebbe essere Antonio Cassano, personaggio di spicco del mondo calcistico per quanto riguarda il passato, a essere, ripeto, probabilmente, uno dei concorrenti del grande fratello VIP, che vi ricordo inizierà nel mese prossimo, quindi il mese di settembre, e che vedrà la conduzione dello stesso da parte della bella, brava, simpatica e sempre sexy, Ilari Blasi. Sarebbe dunque anche lui, potrebbe entrare quindi all'interno di questo grande fratello VIP, uno dei reclusi, nella casa di Cinecittà. Per adesso sarebbe solo, e in modo abbastanza insicuro, una indiscrezione che sarebbe stata fatta. Bisognerà ovviamente capire, o meglio capire, se effettivamente questa idea, questa notizia, che si è ventilata, per così dire, nel web, potrà trovare quindi la conferma oppure la smentita. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, per avere più informazioni, vi rimando a cercare informazioni nel web, cercando su internet il nome di Antonio Cassano, seguito dall'espressione GFVIP, per rendervi un pochino conto. Il video termina qua, ripeto, iscrivetevi, commentate e un caro saluto a voi tutti.